L'applicazione secondo me è molto interessante, potremmo dire che è un regalo che la Federfarm e l'ordine dei farmacisti fanno alla cittadinanza. Diciamo questo, quante volte ci è successo che abbiamo male alla testa e non sappiamo qual è la farmacia aperta in questo momento? Qualche volta non sono facili neanche da decifrare né le informazioni su internet né ciò che troviamo sui giornali. Con questa nuova app basta cliccare sull'applicazione e comparirà la farmacia più vicina, aperta in quel momento. Non solo, basta premere di nuovo e con la geolocalizzazione viene indicata anche la strada più ogevole per raggiungere la farmacia, in quell'ora e in quel momento. Questa app poi sarà anche utile per veicolare dei messaggi certificati dell'azienda sanitaria, che so io, parte della vaccinazione anti-influenzale. Questo è il mese dello screening delle mammografie, ma saranno tutte quante informazioni certificate e non c'è nulla di commerciale. Da quando entrerà in vigore? L'abbiamo già messa sul web, oggi c'è la presentazione ufficiale, alcuni l'hanno già scaricata. Io invito i cittadini a scaricarla numerosi.